Non c'è niente da fare, ci sono alcune case che fanno i profumi che sono indubbiamente superiori a tutte le altre. Una tra queste case, tra queste marche di profumi, indubbiamente è Pantheon Roma, un orgoglio tutto italiano che vanta i più grandi nasi e che mette e che fabbrica i propri profumi, le proprie fragranze con le migliori materie prime esistenti al mondo. Indubbiamente Pantheon Roma è una delle mie marchie preferite in assoluto. Questa sera vi voglio parlare non di Annone come faccio spesso, perché è uno dei miei profumi preferiti, ma vi voglio parlare appunto di R, uno dei due top di gamma della casa assieme ad M. Ebbene R sta per Raffaello, quindi questo profumo è un'esaltazione alla bellezza. È un ode a Raffaello, questo grande artista, questo genio che si è occupato durante la sua carriera di immortalare la bellezza in tante sfaccettature. E appunto Pantheon Roma gli ha voluto dedicare per intero una fragranza. Come sarà questa fragranza? Indovinate. Andiamola a vaporizzare. Meraviglioso. È veramente l'esaltazione della bellezza. Un profumo veramente stupendo. È colorato, molto colorato. Perché? Perché abbiamo un'apertura dove si sente senza ombra di dubbio la fragola, una fragola però speziata con questa cannella, accompagnata anche dal rabarbaro. Una fragola abbastanza legnosa. Abbiamo un cuore molto fiorito con gelsomino, iris e zafferano che gli dona la scia, che gli dona questa scia dorata. È un fondo incredibile con ambra grigia e wood, resine, incenso, balsami e tanta vaniglia, tanta tantissima vaniglia. Quello che arriva al mio naso è fragola, spezie, legni, fiori con la scia dello zafferano e tanta tanta qualità, tanta materia prima. Wood, muschi, legno di sandalo, vaniglia. Questo fondo costituito da ambra grigia, legno di sandalo e vaniglia risente tantissimo di questo sentore buono, squisito, veramente squisito della fragola. Quindi io vi consiglio di andarlo a provare veramente perché ne vale la pena.